Con il tempo, senti che non passa il tempo Continuiamo l'analisi dei passi biblici che ci rivelano l'azione dello Spirito Santo In effetti bisogna sottolineare, se ce ne fosse il bisogno, che lo Spirito Santo esprime la sua opera pienamente in Cristo Gesù è, possiamo dire, l'opera d'arte dello Spirito Santo Dopo Gesù la Madonna, è molto importante questo fatto Perché tante volte lo Spirito Santo nelle religioni ha un contesto un po' etereo Un po' una cosa come un vento, come qualche cosa di... Anche Gesù ne parla, vi ricordate ha detto che non si può capire dove va, dove viene Però questo diventa più concreto nella persona di Gesù Cristo Ecco, se non ci fosse Gesù, Dio fatto uomo per opera dello Spirito Santo Noi resteremmo in questa dimensione molto, possiamo dire, volatile Ecco, senza negare nulla di questa volatilità Perché è una delle caratteristiche dello Spirito Il fatto che non si può circoscrivere Ecco, mentre di Gesù si può fare come un po' la sindone Il ritratto, diciamo così Il padre ha già una sua connotazione Perché il padre è proprio perché è padre Ha il ruolo di padre E quindi già quando noi diciamo padre Diciamo origine, sicurezza Quando diciamo padre, diciamo colui che ci guarda come piccoli Che ci deve fare crescere, che ci ha voluti nella vita Ecco, la parola padre, diciamo già orienta a un ruolo particolare Spirito in effetti va da tutte le parti Lo Spirito Santo agisce in tutti, agisce in tutto E preferisce non avere lui un ruolo preciso Ma alimenta i ruoli Cioè, lo Spirito fa in modo che il padre svolga bene il ruolo di padre Lo Spirito fa in modo che il figlio venga a completare il progetto del padre Lo Spirito Santo fa in modo che la Madonna possa essere madre di Gesù Ecco, lo Spirito si compiace quando noi lo lasciamo agire Ecco, non gli piace allo Spirito Santo agire da solo Ecco, lo Spirito Santo, per esempio, anche nell'Antico Testamento Ancora siamo lontani dalla Pentecoste Agiva in certi momenti nei profeti Agiva anche nei re, soprattutto Davide È stato il re che ha dato più spazio allo Spirito Santo dopo la conversione Questo brano, Giovanni 7, 37 e 39 Parla di... ci riporta una parola di Gesù proprio l'ultimo giorno della grande festa Siamo vicini alla Pasqua, quindi siamo negli ultimi, possiamo dire, giorni della festa E già si evoca, possiamo dire, la vera Pasqua che poi vivrà Gesù Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi, gridò Se qualcuno ha sete, venga a me e beva Chi crede in me? Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva Ecco, fino a questo punto la cosa è ancora un po' simbolica Però poi San Giovanni chiarisce e dice Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui Infatti non vi era ancora lo Spirito Perché Gesù non era ancora stato glorificato Allora questa frase deve essere interpretata alla luce della Pasqua Perché non è che non ci fosse completamente lo Spirito Non era ancora lo Spirito effuso dalla Pentecoste su tutti Ecco, la Pentecoste determina un'azione globale dello Spirito Santo Sul mondo intero Perché la risurrezione di Gesù cambia il senso della storia E dopo circa 50 giorni della risurrezione Gesù stesso, prima dell'ascensione, ha detto Attendete ancora un poco Perché verrà lo Spirito Santo Ecco, e agirà in maniera totale Ecco, inizia il tempo dello Spirito Per ora siamo nel tempo dello Spirito Perché dalla Pentecoste La prima Pentecoste Fino al ritorno di Gesù Siamo in un tempo che si qualifica Tempo dello Spirito Santo Quindi il protagonista adesso è lo Spirito Santo Perché Gesù era protagonista Perché Gesù era protagonista fino a quando si fece uomo È morto ed è risorto Quando Gesù è risorto, che ha completato come uomo la sua opera Perché è un modello per noi Gesù, Dio fatto uomo, è un modello per noi Ecco, noi ci possiamo rispecchiare in Gesù Cristo Anche se lui è Dio fatto uomo Ma noi siamo uomini Però grazie a Gesù Cristo Noi abbiamo un modello umano perfetto Cioè Gesù viene in questo mondo Per realizzare il piano di Dio Appena finisce il suo compito Gesù dice Io ora devo tornarmene Possiamo dire Tanto per capirci All'interno della Trinità Ecco, non posso stare ad extra Cioè fuori Ecco, anche se dobbiamo dire Che quando Gesù si fece uomo Non è che nella Trinità restarono due Perché la Trinità non si può Non si può parzializzare Però Una parte della Trinità Possiamo dire Un elemento della Trinità Era anche uomo Quando Gesù tornò in cielo Ecco, cambiò in un certo senso Parlando umanamente La Trinità Perché mentre prima La Trinità era fatta da tre persone divine Nelle quali non c'era la materia fisica Quando Gesù tornò Nell'ascensione Allora Tornò in paradiso Con Possiamo dire Con un corredo umano Ecco Con la sua umanità Sapete che Gesù Cristo è Persona divina L'eterno figlio di Dio Con due nature La natura divina E la natura umana Che lui ha assunto In Maria Santissima Per opera dello Spirito Santo Quindi finisce Lo Spirito Santo Di operare Nella Nella persona di Gesù Cristo Non finisce Completa Più che finisce Perché non finisce mai Ma si completa L'opera Di Gesù Cristo Nella sua persona E adesso La stessa opera Di Gesù Cristo Lo Spirito Santo Ha l'incarico Di portarla A coinvolgere Il mondo Infatti Gesù risorto Aveva detto Andate ora In tutto il mondo Se vi ricordate Prima Gesù aveva detto Non andate Fuori Del popolo Di Israele Prima Le pecore Di Israele Prima Completiamo Il cammino Che Dio Ha fatto fare Al popolo Eletto Ecco Dopo la risurrezione Invece L'orizzonte Si allarga E Gesù stesso Dice Ora andate In tutto il mondo Questo Coinvolgere il mondo Col potere Che ha Gesù Cristo Di cambiare La natura umana Il Signore Lo sta realizzando Dalla Pentecoste Fino a quando tornerà Con i sacramenti Ecco Accolti E con coloro Che dicono Si al Signore Come Gesù E come Maria Quindi Maria E Gesù Sono il modello Dell'umanità Nuova Ecco Lo Spirito Santo Quindi Ha questo ruolo Vi siete accorti Che Gesù Utilizza La sete Come simbolo Del desiderio Di Dio E noi Potremmo chiederci Che sete Ho io Perché Una persona Può avere Sete Di denaro Perché Bisogna vedere Con quale sete Uno ha sete Di potere Un altro Ha sete Di vita comoda Un'altra persona Magari vanitosa Può avere Sete Di successo Ecco Una persona Un po' Orgogliosa Ha sete Di Aver ragione Ecco Una persona Un po' Presuntosa E' soddisfatto Quando Gli altri Ti dicono Hai ragione Ecco Perché Perché Il suo Io È soddisfatto E quindi La sete Indica Qualche cosa Che noi Desideriamo Per stare Bene Ecco E a Secondo Della sete Che abbiamo Noi possiamo Capire Quello che Abbiamo Dentro Se una Persona Ha sete Di pace Allora E' più Probabile Che diventi Strumento Di pace Se una Persona Ha sete Di Che vi posso Dire Di vincere Di essere Superiore Agli altri In effetti Sicuramente C'è Della Superbia Perché si sente Soddisfatto Quando è Superiore Agli altri Quindi E' una cosa Molto Delicata Perché Se uno Egoista Ha sete Di essere Soddisfatto Lui E gioisce Quando è Soddisfatto Poi gli altri Di meno Mentre Quando una persona E' altruista Sta meglio Quando vede Sorridere Gli altri Quindi A secondo Della sete Che abbiamo A secondo Del desiderio Che vogliamo Soddisfare C'è Una Una caratteristica Che emerge Senza Questo sintomo Della sete Noi Possiamo Illuderci Di avere Carità Di avere Altre cose Però Poi la nostra Sete Rivela Chi siamo Dentro Ecco Una persona Che per esempio Vuole comandare Ha sete di comandare Sapete C'è gente Che anche Quando è anziana Comanda sempre Tante volte A noi ci capita Sapete Di andare Dai vecchietti E vedere Che i vecchietti Comandano Anche Pure quando Sono paralizzati A bacchetta Ecco C'è gente Che vuole Questo Vuole Quello Vuole L'altro Ecco E pretende Per esempio Una persona Che pretende Che ha sede Di essere Proprio Di essere servita Bene Indice Di un Stato D'animo Diverso Diverso E quando Una persona Per esempio Chiede Spontaneamente Gli viene spontaneo Dice Per favore Ecco Mi scuso Oppure C'è gente Che si impunta Sapete Appena Tu gli fai Un minimo Di Si impunta E' Cocciuta Ecco La sede Quindi è Rivelatrice Di quello Che abbiamo Dentro Se noi abbiamo Sete Di Dio Vuol dire Che già C'è un cammino Dietro Perché abbiamo Superato La fase Umana In cui Non so se voi Potete Saperlo Ricordarlo Kierkegaard Diceva Che ci sono Fasi Nella nostra Vita In cui Una persona C'è la fase Estetica Che è un po' Quella Degli adolescenti Che hanno Sete Che gli altri Le approvino Voi vedete Per esempio La moda Tutti stessi Perché Perché hanno Bisogno Non avendo Una personalità Molto Ancora forte Definita Gli adolescenti Si misurano sempre Con gli altri Quello che pensano Gli altri Quello che vogliono Gli altri Ecco Tante volte Per esempio Facendo Dei ritiri Per adolescenze Ti dice Ah se non viene La mia amica Non vengo manco io Perché O vanno in gruppo O niente Perché da soli Non ce la fanno A fare Una scelta Una cosa Non sono autonomi Ecco se gli altri Hanno i capelli In un certo mondo I ragazzi Tendono a avere Tutti A conformarsi Ecco Addirittura Si vestono Da anticonformisti Conformandosi A tutti gli altri Perché siccome Sono tutti Anticonformisti Si conformano In quel modo Come una divisa Ecco Noi dobbiamo Dire proprio questo Che Lo Spirito Santo Ci fa fare dei cammini Ci fa superare La fase estetica Ecco Per esempio Tante volte Le persone si convertono E ci dicono Padre Quando io ero Lontano dal Signore Compravo sempre Gioielli Compravo sempre Pellicci Ora mi sono convertita Dice Tutti questi pellicci Che fare Signore Che posso fare Dice Facciamo una Una cosa Una Sì sì Una specie di lotteria Qualche cosa del genere Perché Che posso fare Tutte queste cose E la fase estetica Ecco La fase estetica Tu catti tante cose Fai questo Vedete Per esempio Per ora C'è tutta la mania Animale Tutti i cani Cosa Tutte i bani Ecco Viaggiando Tu vedi Che viaggiano D'estate Tutti Col cane La puzza di cane E poi Per dire Tutti i sacrifici Per un cane Per carità Noi siamo amanti Degli animali Però L'eccessivo Ecco L'eccessivo Pensate C'è gente Che non si fa Un ritiro Perché non sa A chi lasciare L'animale Quindi si rinuncia A un ritiro Spirituale Perché Di fatto Sembra strano Ma è così Ecco Tante volte Poi Le coscienze Le giudica solo Dio Però Noi stiamo Guardando il fatto Esterno Ecco Il fatto Per esempio Che una persona Abbia sete Di fare Quello che dice lui E non abbia sete Vi ricordate Che nei Beattitudini C'è scritto Beati Coloro che hanno Fame E sete Ma della giustizia Che qua Non è la giustizia Possiamo dire La giustizia Come la intendiamo Noi Questa giuridica Ecco E la giustizia Ciò che è giusto Davanti a Dio Sarebbe Ecco Fame e sete Di realizzare Quello che piace Al Signore Sarebbe La giustizia Di Dio Le cose giuste Che fa Dio Dice Gesù Giustamente Chi ha fame E sete Di questo Riceverà Una forza Dello spirito Particolare Ecco Se una Per esempio Vi faccio un esempio Santa Teresa Davila XVI secolo Diceva Che lei Aveva il desiderio Di amare il Signore Era un po' Una vanità Anche spirituale Però lei Lo diceva in maniera Ironica Autoironica Ecco Io nel mio cuore Dicevo Signore Ti chiedo una grazia Che io sia La persona Che ti ama Di più nel mondo Pensate Che cosa Che non ci sia Un'altra persona Che ti ama E mi più di me Ecco Lei stessa Lo diceva Come un Un elemento Di orgoglio Dice Appena incontravo Una persona Che mi dava L'impressione Di amare Gesù Più di me Subito Io dicevo No Signore No Devo essere io Ad amarti Più degli altri Tanto è vero Che poi Quando il Signore Le chiese Di aiutarla A portare la croce E lei si lamentò Gesù le disse Ma non mi dici sempre Che vuoi amare Dice sì E allora Aiuto mi ha portato la croce Per salvare l'umanità Io Ai miei amici Chiedo aiuto Ecco A quelli che mi amano Io chiedo aiuto Per salvare l'umanità Perché lo scopo Non è stare bene noi Questo è lo Spirito Santo Quando noi abbiamo Lo Spirito Santo Non abbiamo più L'assillo Del nostro io Diciamo Signore Io sono qui Per dare la vita Io sono qui Come disse Gesù Vedete Gesù è pieno Di Spirito Santo Io sono venuto Non per essere servito Ma per servire E dare la vita Per l'umanità Allora Quando noi abbiamo La pienezza Dello Spirito Santo Sentiamo nel cuore Dice Romani Capitolo 8 Poi lo vedremo In altre situazioni Che nel cuore Una persona dice Padre Realizza Quello che tu desideri Per l'umanità Cioè ti metti Nei panni del padre Perché lo Spirito Santo Ti dà questa grazia Se invece tu Ancora non hai Lo Spirito di Dio Ma hai lo Spirito tuo Umano Dice Signore Io oggi mi sento male Oggi mi sento così E poi voglio questo E poi non voglio quello Un po' come la prima lettura Della messa di oggi Ecco che Quando erano in Egitto Si lamentavano Perché erano schiavi Poi il Signore Li ha fatti uscire Dall'Egitto E si lamentavano Perché era faticoso E dice Ma quanto era bello Quando eravamo Che mangiavamo la carne In abbondanza A sazietà Dico Ma non siete mai contenti L'Io Lo Spirito umano Non è mai contento Lo Spirito di Dio Invece Si compiace Dell'opera di Dio E quando deve affrontare Un guaio Lo Spirito di Dio Dentro di noi Ci dice Signore Dammi la forza Lo Spirito di Dio È quello che E sostenne Gesù Nell'Orto degli Olivi Quando disse Padre Se questo calice Non può passare Sia fatta La tua volontà Quello è lo Spirito di Dio Ecco Non è lo Spirito Della lamentela Lo Spirito Ecco Noi non possiamo fingere Quando vediamo Che dentro di noi Noi ci Siamo tristi Abbiamo ansie Umane Dobbiamo dire Spirito Spirito di Dio Liberami Dallo Spirito Della paura Lo Spirito Di non essere realizzata Ecco Perché Nel campo biblico L'avera Il vero successo È superare La paura Di non avere successo Perché nel mondo Si vive Per il successo Economico Fisico Estetico Ecco Vedete per esempio Per carità Sono cose bellissime Anche lo sport Tante volte Se non vinci Ecco È come per dire Sì Teoricamente De Coubertin Diceva L'importante È partecipare Ma in realtà Gioisce Solo che lo convince Perché Se almeno Non pigli Manca medaglia Di bronzo Se proprio Come puoi dire O entri Nei primi tre Oppure Sei uno qualunque Vedete Ragionare in questa maniera Non è lo Spirito di Dio Perché lo Spirito Del Signore È diverso Dice Sì Io ho partecipato Ci sono persone Migliori di me Ma è uno sport Non è L'importante È la carità L'importante È che viviamo L'amore Ecco Quindi Lo Spirito di Dio Opera in noi Secondo Facendoci cambiare sete Ecco A secondo Della sete Che abbiamo Noi possiamo capire Quanto deve lavorare Lo Spirito Andiamo avanti Giovanni 16 Ma io vi dico La verità Guardate Questa è un'altra opera Dello Spirito È bene per voi Che io me ne vada Perché se non me ne vado Non verrà a voi Il Paraclito Se invece me ne vado Lo manderò a voi E quando sarà venuto Dimostrerà la colpa del mondo Riguardo a tre cose Al peccato La giustizia E il giudizio Riguardo al peccato Perché non credono in me Quindi il vero peccato Lo Spirito Santo Ci fa capire Che il vero peccato Non è quando uno Si confessa e dice Padre ho detto una bugia Padre mi sono arrabbiato Sì, diciamo Queste sono miserie umane Ma il vero peccato È che io non credo Alla parola di Dio Quella è la radice Da dove nasce? Dal peccato originale Perché questo è il vero peccato? Perché quando Dio parlò Ad Adamo ed Eva Loro invece di credere a lui Hanno creduto al maligno Dio gli diceva Delle cose per amore E il maligno Gli diceva Dio vi ha detto queste cose Perché vi vuole sottomettere E hanno creduto al demone Quindi la radice di ogni peccato È non credere a Dio E credere alle nostre idee O a quelle degli altri O a quelle dell'umanità Cioè credere è una cosa importante Cioè accogliere significa Ecco, se io credo in Dio E Gesù mi dice nella sua parola Io sono con te e ti amo Una persona se ci crede Piglia sul serio Quello che mi dice Se il Signore mi ha detto Che è qui e mi ama Io ti accolgo Signore E anche se non capisco Perché la mia umanità Non capisce quanto mi ami Io ti accolgo E ti dico Signore Se vuoi Fammi sperimentare che mi ami Ma io ci credo Che tu sei qui Sapete, credere a Gesù E in fondo Quando Gesù faceva dei miracoli E Gesù diceva sempre La tua fede Ti ha salvato Cioè il fatto che tu mi hai accolto E a Nazareth Non poteva fare Molti segni miracolosi Perché la gente lo rifiutò Alcuni lo hanno Ma ora ci sarà un passo In cui Ecco, riguardo al peccato Riguardo alla giustizia Perché io vado al Padre E non mi vedete più Significa Che è giusto Che io sia venuto Abbia compiuto le cose E ora torna al Padre Cioè sarebbe il piano di Dio Cioè Alla giustizia significa Che è giusto Non Perché avrebbe fatto comodo Ai discepoli Avere ancora Gesù Ma La cosa giusta Non è che Comodi nostri È come quando uno Deve andare in paradiso E dice Ma è giusto Che il Signore Si portò in paradiso Carlo Acutis A 16 anni Vedete Credono che non sia giusto Poi arriva la mamma Di Carlo Acutis Dopo che vede Le meraviglie Che ha fatto La morte di suo figlio E ha detto Forse era giusto Quello che ha fatto Dio Cioè che le cose giuste Non sono quelle Che ci sembrano Giuste a noi Le cose giuste Sono quelle Che compiono Il piano di Dio Perché Dio È infallibile Mentre noi Siamo limitati E abbiamo una visione Molto 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 Anche deformata A volte delle cose Noi senza accorgerci Ne siamo condizionati Anche dalle nostre paure Dal nostro io Quindi Solo lo spirito Ci può far capire Che è giusto Quello che Dio Ha scelto Ecco Per esempio Ci sono persone Che ogni giorno Quasi ogni giorno Mi dicono Padre Ma è giusto Che il Signore Permette la guerra Avremmo potuto dire Ai tempi di Gesù Ma è giusto Che Erode Vuole uccidere Gesù Ma è giusto Che cosa significa Che il Signore Accetta la storia E noi ti rifacciamo Noi non l'accettiamo La storia No Non ve l'ho detto Diciamo Per ridere Che è stata gente Due anni fa Che mi chiedeva Quando cominciò La guerra in Ucraina Padre Si può dire una messa Perché Perché Per chiedere al Signore Che muoia Putin Come celebra una messa Non si può celebra una messa Anche se è cattivo Non si può uccidere Ecco vedete La nostra logica È la stessa logica Del mondo Eliminiamo il problema Ma voi lo sapete Che anche Putin È figlio di Dio Come È un figlio Che si comporta male Per carità Ma è figlio Vi ricordate Quando Il fratello Del figlio prodigo Disprezzava A suo fratello E noi siamo così Siccome Che lui Si comporta male Signore Eliminalo Ma non è La volontà di Dio Dio non vuole Eliminare nessuno Il Signore Accetta anche La storia Così come La scriviamo noi Perché noi Siamo responsabili Della storia Sapete Noi Modificheremmo La storia Secondo i nostri criteri Il Signore dice No La storia Deve andare avanti Con quelle caratteristiche Che io ho dato Perché ognuno Ha la sua libertà E come io Non blocco La libertà di nessuno Non blocco la libertà Né dei potenti Né dei piccoli Dice Ma allora ci sono Cose ingiuste Sei tranquillo Che se uno accetta me Io ho il potere Di trarre il bene Anche dal male Noi ci stupiremo In paradiso Di tutte le persone Che sono vittime Della guerra Ma che il Signore Gli darà il paradiso In maniera eterna Perché Dio Accetta la storia Cioè quando Suo figlio È stato In pericolo A causa Di Di Erode Gesù Non mandò un fulmine Padre non mandò Un fulmine Su Erode Mandò un angelo A dire a Giuseppe E a Maria Scappate Che può fare Vedete Accettare Che quello che fa Dio E cioè Secondo noi Dio è strano E ora Lo Spirito Santo Ti dice Cristo Se tu accetti L'opera di Dio E capisci che tu Sei strano Allora sei nello Spirito Santo Ma se Se il tuo spirito Umano Ti dice che Che lo che fa Il Padre Lo Spirito Santo Gesù è strano Vuol dire che tu Sei strano Sapete In quel villaggio C'era un villaggio In cui tutti erano pazzi E c'era un solo sano Di mente E lo chiamavano Upazzo Perché siccome Sono tutti pazzi Chiudo che era diverso Da loro Lo chiamavano Upazzo Ma era l'uno Che era normale E ora vedete Sapete Se ci fate caso La vita è anche ironica Ci prende in giro Se ci prendiamo Troppo sul serio E noi non capiamo Dio Quando ci sembra Che Dio è strano Dobbiamo dire Signore Sono troppo piccolo Perché tu sei La sapienza Per questo Credere che Gesù È la verità È una cosa Credere che io Penso Ho la verità Da solo No Perché io Noi non siamo La verità Noi siamo l'opinione Noi abbiamo Delle opinioni Ma la verità È solo Gesù Quando le persone Dicono Anche i politici Dicono Ah io dico La verità Io dico Tu a dire Tu dici Quello che ti sembra La verità I fatti poi Smentiscono sempre Voi vedete Tutti i programmi Di tutti i politici Di destra Di sinistra Di centro Eccetera Sono tutte cose fallibili Nessuno è perfetto Ma ognuno parla Come se la sua proposta È perfetta Voi fateci caso Quando parlano Dicono Oh seguite me Che io Ho capito tutto E poi A storia Smentisce Invece Gesù Ti dice Guarda Tutte opinioni In Matteo 23 Gesù dice Non seguite gli altri Uno solo Il Maestro Il Cristo Gli altri Sono tutti discepoli E sapete Ci ridimensiona molto Lo Spirito Santo Perché ciò che è giusto Solo il Padre Lo sa Quando il giorno In cui moriremo Noi diremo È giusto Non è giusto Sì Signore Se oggi mi chiami Vuol dire che è giusto ora Nessuno può allungare Di un'ora la sua vita Sapete Avere questa consapevolezza Che Dio fa solo cose giuste Anche se Ripeto Molte cose di questo mondo Sono contrari a Dio Il 90% Di quello che avviene Nel mondo È contrario a Dio Tutti i guerri Sono contrari a Dio Tutta la fame nel mondo È contrari a Dio Perché Dio ha dato Il mangiare per tutti Basterebbero Il prezzo di 3-4 aerei Di kg Che cadono ogni giorno Per sfamare Intere popoli Sapete Un aereo di kg Che costa 13 miliardi Di lire Non so Cioè sono cose Guardate la guerra È la follia A livello E voi pensate per esempio Come follia I paesi più poveri Non hanno manciare Ma hanno le armi Li riempiono di armi A tutti i poveri affamati Ecco È terribile È terribile Cioè la situazione del mondo È veramente Contraria a Dio E quindi Quando il Signore Ci dice Fai la mia volontà Non ci dice Che è bene Quello che fa il mondo La volontà di Dio È trarre il bene Dal male Che c'è nel mondo È come dire La volontà di Dio Non è il venerdì santo Perché il venerdì santo È frutto dell'opera Del sinedrio L'uccesione di Gesù La volontà di Dio È la domenica di Pasqua Cioè quando il Signore Risponde All'opera degli uomini Cioè fino al venerdì santo Il Signore si piega Umilmente Alle scelte degli uomini E dietro c'è il regista Il demonio Però poi dice Ma il terzo giorno Io risorgerò Io Dio Quindi Noi la volontà di Dio Non la vediamo Al telegiornale Noi a partire Dal telegiornale Con tutte le cose Cattive che ci sono La volontà di Dio È trasformare Quel male che vediamo In un'opera d'amore Mentre Quando lo vediamo Al telegiornale È un'opera di distruzione È giusto Quelle immagini Sono Il segno chiaro Ogni giorno Distruggono tutto Si distrugge tutto Ma la volontà di Dio Non è quella Quella è l'opera degli uomini La volontà di Dio Che da quel male Il Signore Tragga Il bene Questa è la giustizia di Dio Se noi vogliamo collaborare Noi Due possibilità abbiamo O collaboriamo con gli uomini O scegliamo di collaborare con Dio A favore degli uomini Certo Perché il Signore Vi diceva Non è contro nessuno Perché siamo tutti figli di Dio È rispetto alla libertà Di tutti Di tutti E la terza cosa È il giudizio Ecco Il giudizio Lo sa solo Dio Perché Solo Dio Ha già giudicato Che il demonio Il principe di questo mondo È già condannato Chissà può capire Solo il Spirito Santo Perché L'impressione nostra Qual è Sempre a telegiornale Che ha vinto il maligno Se tu vedi per esempio Le persone che non hanno fede Dice Ma è evidente Che il male sovraste il bene Che il male vince sul bene È evidente No Agli uomini In realtà La verità Sta a dieciole apparenze Apparentemente Il demonio Pare che vince Ma in realtà Gesù ha già vinto il maligno Infatti In Apocalisse 12 C'è scritto Il demonio Lui lo sa Che gli resta poco tempo Lui lo sa E proprio perché sa Perché ha perso Si scatena ancora di più Contro l'umanità Perché come ogni esercito Che già sa Che ha perso la guerra Più può distruggere il nemico Più distrugge Quindi Sapete È come se Questi pochi versetti Ci fanno capire Che il mondo Delle apparenze È lontano Dalla luce Dello spirito Lo spirito santo Ci fa capire Quello che c'è dentro Oltre le apparenze Ci fa capire Quella sostanza Che c'è Al di là Di tutto quello Che appare Il mondo Delle apparenze È un mondo Non vero Proprio per questo Sono apparenze L'altro passo Giovanni 16 12 15 Siamo sempre Sulla stessa linea Siamo proprio L'ultimo momento Della vita di Gesù Molte cose Ho ancora da dirvi Ecco Ma per il momento Non siete capaci Di portarne il peso Quindi la verità Come diceva Caterina Caselli Fa male È profetessa Purita E il Signore Si sapeva di tutti Perché la verità Fa male E quindi dice Non siete capaci Ecco Perché tante volte Il Signore Ci rivela Alcune nostre Miserie Dopo tanti anni Dice Ma perché Mi sono convertito 15 anni fa E dopo 15 anni Ho capito Che sono ipocrita E se tante volte Che hai fatto capire 15 anni fa Non avresti manco Fatto il cammino Il Signore Ti ha fatto maturare Quando arrivi Al punto Che puoi supportare Il fatto di dire Purtroppo Sono ipocrita E devo Perché 15 anni fa Mi sentivo un eroe E facevo Il galletto Perché facevo l'eroe In realtà Era un ipocrita Che aveva bisogno Di Di cambiare vita E il Signore Aspettò 15 anni Per farmi capire Mettiamo che Ho bisogno Ho bisogno Di essere più autentico E più umile E più pulito Ecco Quando verrà a lui Lo spirito della verità Vi guiderà A tutta la verità Perché non parlerà Da se stesso Ma dirà Tutto ciò Che avrà udito E vi annuncerà Le cose future Egli mi glorificherà Perché prenderà Da quello che è mio E ve lo annuncerà Tutto quello che il Padre Possiede È mio Per questo Ho detto Che prenderà Da quello che è mio E ve lo annuncerà Ora vedete I Vangeli Sono stati scritti Il più recente Attorno all'anno 100 Quindi Noi abbiamo Se può dire 20 secoli abbondanti In questi duemila anni A partire dal Vangelo Scritto È stato annunciato Il Vangelo È vissuto E la verità Si è andata rivelando Cioè noi ne sappiamo Molto più Di quello che ne sapeva Sant'Agostino Nel VI secolo E Sant'Agostino Ne sapeva più Di quelli che avevano I martiri Di Santa Agata Che ha vissuto Nel III secolo Cioè man mano Che il tempo Va avanti Lo Spirito Santo Prende sempre Dalla parola di Gesù E le fa capire meglio Ora tutto questo È stato documentato Perché San Giovanni Paolo II Giustamente Diceva Dobbiamo fare Una raccolta Di tutto quello Che lo Spirito Santo Dalla risurrezione Di Gesù A oggi Ha fatto Perché negli archivi Vaticani Ci sono Ma anche Renderlo Presente Alle persone E ha incaricato Il cardinale Allora Joseph Ratzinger Che poi diventerà Benedetto XVI Di raccogliere Tutto questo tesoro Dello Spirito Santo In modo Che anche la gente Potesse averlo davanti E questo è il catechismo Della Chiesa Cattolica Quello completo È bellissimo Guardate Certe volte Viene da commuoversi Tu pigli un argomento E sotto ti dice Nel IV secolo È stato capito questo Nel VI secolo Questo Nell'Indicesimo secolo Tale concilio Ha capito proprio questo Cioè si vede Come nella linea Della storia Lo stesso Vangelo È stato illuminato Ecco Voi pensate San Francesco Ancora Ai tempi di San Francesco Non si sapeva Che i sacramenti Erano sette Ancora ai tempi di San Francesco Si credeva Che alcune benedizioni Fossero dei sacramenti Perché c'è una grossa differenza Fra benedizioni Che si chiamano sacramentali E i sacramenti I sacramenti Sono una presenza Di Gesù Risorto I sacramenti Sono preghiere Che favoriscono L'opera di Gesù Presente nei sacramenti E come puoi dire I sacramenti Sono la presenza Di Gesù Risorto Nella nostra vita Ecco Attraverso dei segni Simbolici Efficaci Mentre i sacramenti Sono delle preghiere Che sono utili Per vivere i sacramenti Allora ai tempi di San Francesco Ancora non si sapeva Quanti erano i sacramenti Alcuni dicevano nove Alcuni dicevano dudici Ecco Poi San Tommaso d'Aguino A proposito del Spirito Santo Con la sua intelligenza così Ha definito Che i sacramenti erano sette E quindi da San Tommaso in poi Noi abbiamo i sette sacramenti Vedete Aspettare O il dodicesimo Il tredicesimo secolo In pratica Aspetta Tredicesimo secolo Per la Madonna immacolata Si è dovuto aspettare Fino al 1850 Ai tempi di Santa Bernadetta No Vi ricordate che Pio IX Aveva proclamato il dogma Dell'immacolata concezione Pochi anni prima Ma loro non lo sapevano Perché allora non c'era Ancora manco la radio Non c'era niente Per cui quando L'abbè e l'abbate Pre Ramal Che era il parroco Di Santa Bernadetta Gli ha detto Dice a questa signora Che tu dici Vedi questa signora Ma chi è questa signora Ecco La prima volta Glielo domandò Ha detto al mio parroco Chi è lei E lei si mi sa ridere E non disse niente E tornò dal parroco Dice Mi ha sorriso Ma non mi ha detto niente Dice domani c'è una roba Perché non è che L'hanno a sapere Chi sta a casa Perché gli aveva detto Dice Dice ai preti Di fare una Qui una cappella Dice ma per sapere Che questa cappella Ma sapere Che c'è la comanda Questa cappella Allora lei Quando la vide di nuovo Le ha chiesto Il parroco mi ha detto Di dire Chi è lei E lei disse Io sono L'immacolata Concezione Lei non aveva mai sentito Pronunciare Questa parola Perché era Una parola Dogomatica Che solo Il papa aveva utilizzato Lei che era ignorante Figuratevi Non le volevano fare Manco la prima comunione A Santa Bernadette Perché non aveva superato Gli esami Del catechismo Quindi Di fatto Dice Lei stessa Disse Io mi ripetevo Per non scordarlo Dalla grotta Fino al parroco Immacolata Concezione Immacolata Concezione Quando bussò Il parroco Il parroco Apri Lei subito Disse L'immacolata Concezione Il parroco Dice Chi ti ha detto Questo La signora Siccome il parroco Conosceva il dogma Perché giustamente Lui sapeva Che aveva fatto Il dogma Allora capì Che era sicuro La Madonna Che aveva confermato Il dogma Del papa Apparendo All'Urd E su cosa Importante Sapete Non è che su cosa Da niente Il Spirito Santo È vero Cioè la storia Nei Santi Testimonia Che lo Spirito Santo È l'autenticità Della verità Sia Gesù Che lo Spirito Santo Non sono mai Stati smentiti Nella storia Noi uomini Sì siamo smentiti Perché canciamo Facciamo Ma lo Spirito Santo È lo Spirito Santo E allora Noi abbiamo Vedete Il Catechismo Della Chiesa Cattolica È proprio Il documento Ufficiale Popolare Perché poi Ripeto I libri di teologia Li leggono Soltanto Ma a livello Popolare Il mondo Ha vissuto Ha arricchito Il Catechismo Quello che ha scritto San Paolo VI Arricchito Quello che ha fatto Padre Pio Arricchito Di nuovo Ecco Le ricerche che ha fatto Carlo Acutis Ora lo programma Il prossimo Catechismo Che fanno Aggiungono Quello che In questi anni È stato Arricchito Al patrimonio Sapete È come un patrimonio Di una famiglia Ricca Che va sempre Aumentando Perché Perché Ognuno Ogni generazione Ogni generazione Consente Allo Spirito Santo Di operare Sempre di più Noi ci dobbiamo Con piacere Di questo Sapete Certo Voi pensate Che cento anni fa Circa cento anni fa Cento Centovent'anni fa Centovent'anni fa Quello che scriveva Un'altra Santa Teresina Per esempio Un'altra Santa Teresa Che sembrava Una cosa banale Perché Sembrava una cosa banale Sapete Quando morì Santa Teresina Le consorelle Dissero Vabbè Stasuora Fu malaticcia Ha vissuto 24 anni Però Sempre malata 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 Ma quando scoprirono Gli scritti personali Storia di un'anima Cambiò la spiritualità Tanto è vero Che quegli scritti Costituiscono La spiritualità Moderna Una versione Moderna Dello Spirito Santo Per la vita spirituale Sapete Oggi come oggi Non si può fare Più a meno Della spiritualità Di Santa Teresina Infatti Non è solo Santa Santa Teresina E' anche Dottore della Chiesa Cioè significa Che non solo Ha vissuto la carità In maniera eroica E quindi esemplare Ma anche i suoi scritti Hanno dato un contributo Alla conoscenza Della verità di Dio Sapete Su cose importanti Pure queste E quando faranno Per esempio Santa E Chiara Corbella Per esempio Nel futuro Vedrete Che si allargerà La conoscenza Della verità Cioè Mentre la storia umana E' una storia Di ingiustizia Di morti Di distruzione Di interessi economici Sotto questa storia umana Che i responsabili sono gli uomini Dio va tessendo la storia della salvezza Contemporaneamente Non esiste solo la storia profana All'interno della storia umana All'interno della storiografia Esiste la storia della salvezza Che quindi è come dire Una trama di salvezza Che Dio sta realizzando E cerca persone Che liberamente Collaborano con Gesù Quindi voi vedete Se uno è egoista E pensa a sé Non aderisce a Gesù Ma se una persona Vuole bene all'umanità E dice Ma io qua Perché sogno a fare? Per me stesso? No io sono qui al servizio Dell'umanità Ognuno dà il nostro contributo Allora dice Signore Non a me Ma al tuo nome da gloria La mia vita serve per gli altri Questo è il miglior uso della vita E' l'esatto contrario L'esatto contrario dell'egoista L'egoista dice Basta che sto bene io oggi Hai una di buona Se sto bene io Stiamo bene tutti E la persona che ha Lo spirito di Dio dice No Non è così importante Che stia bene io L'importante è che la mia vita Sia utile per tutti Sia che sto bene Sia che sto male Perché anche un mal di testa Offerto a Dio Dio lo fa servire Per il bene dell'umanità E quindi Dio valorizza Sia quando Io ho una che stiamo buona Sia i giorni in cui siamo Dio valorizza Sia i ragazzi a 16 anni I bambini Ha utilizzato per esempio Tutti i bambini Al di sotto dei due anni Quando Erode Uccise tutti No Quindi sui santi martiri innocenti Ancora non avevano Imparato a parlare Che già con la loro vita Hanno dato la vita per Gesù Perché Erode Li ha uccisi Vedete La storia Letta sotto lo sguardo Di Dio È una storia È la stessa storia nostra Ma da un altro punto di vista E quindi La lettura Fatta della storia Come quella che ha fatto La Madonna Vi ricordate che la Madonna Nel Magnificat Fa una lettura della storia Ha rovesciato i potenti Dai troni Ha innalzato gli umili Ha ricolmato Di bene gli affamati Ha rimandato In ricca a mani vuote Diceva come Una ragazza a 16 anni A Nazareth Sabe tutte queste cose Perché il Signore Le ha dato Il carisma Di essere Madre dell'umanità Quindi La luce di Dio La luce del risorto Fa vedere le cose In un modo diverso Dagli uomini È come per dire Alla luce Di quello che Gesù ci fa Noi ci dà Noi possiamo In un certo senso Criticare Il telegiornale E scoprire Che il telegiornale È pieno di bugie O di cose insufficienti Perché se noi Leggiamo la storia Attraverso gli occhi di Dio Ci accorgiamo Che gli uomini Capiscono Un poco Della verità E mischiano Bugie Verità E interessi umani Infatti Se voi vedete Anche tutti I telegiornali Che ci sono Che tu Vedi Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rai 4 5 6 7 E tutto Ognuno dice La sua versione Ma qual è Che è giusto E chi è sbagliato Perché ognuno Ha una linea editoriale A cui Sottostare Perché chi lo paga È giusto Se chi lo paga C'è di fatto Il giornalista Non è che ci può dire Il contrario Che lui Dice È giusto Che dite Quindi Ognuno Ha i suoi limiti Le sue cose Ma queste sono Le cose umane Per carità Ma anche Che vi posso dire Pure TV2000 Siccome paga La CEI Chi non può dire Cosa contraria La CEI Dico Queste sono le cose umane Se è così Cioè Se la CEI Destabilisce C'è una linea editoriale E chi lo segue La CEI Perché L'espressione Della CEI Ecco Ironicamente Il Papa Dice L'organo di partito Perché Chi è l'organo di partito Ma chi sa Sui cose umane Per carità Però L'importante È che noi capiamo Che Dio è Dio Ecco E che l'Eucaristia È l'Eucaristia E che lo Spirito Santo È lo Spirito Santo Poi Le espressioni umane Anche cattoliche Vabbè Hanno il loro ruolo Per carità Non ne possiamo fare a meno No Tante volte Si è voluto Fare a meno Della religione Ma non è possibile Fare a meno Di una religione Perché? Perché la religione È l'espressione Umana Della fede E quindi Forza da esprimere In qualche maniera Non è che dici Solo che Il modo di esprimerti È compromesso Da chi lo esprime Dalla vecchiaia Del parroco Che parra Dall'omelia Che fa uno Così E quindi Le espressioni Che viviamo Capito Sono diverse Ma è un po' Come nella medicina No Una cosa È il laboratorio Una cosa È poi Una persona Che incorsia Nella clinica Un medico Di paese Che deve adattare Chiede che sono I principi E le cose Alla gente No La capacità È chiede Non è che si può Ecco Per cui La verità di Dio Deve essere poi Vissuta nella misericordia Verso le misure umane Ecco Per questo Per esempio Non posso andare io A Catania A criticare Come fa una festa Di Sant'Agata O andare a Napoli A criticare Come fa una festa A San Gennaro O a Palermo A festa A Santa Rosalia Perché là Si mischiano Anche modi Umani Espressioni Ignoranza Povera gente Diciamo là È come per dire Un signore usa Molta misericordia Perché c'è Magari c'è Che ti posso dire La persona Che nessuno ha educato E che in quell'espressione Alla santa Vive la sua fede Ecco Per un purista È un po' Troppo La vecchierella È un po' così Ma bu signore La vecchierella Guarda Del lato di tutto La sincerità Ecco Perché sapete Se il camorrista A un certo punto Chissà quanti camorristi Il giorno Che si scioglie Il sangue A San Gennaro Da Quanta gente Si sarà convertita Che ne sai tu Perché si scioglie È vero Io sono partecipato Sono stato otto anni A Napoli Stanno non si sciolto No Stanno non si scioglie Che? Boh Comunque Adesso Addirate tutte le superstizioni Però di fatto Ecco Voglio dirvi È vero Che la fede È pura Esiste Però Appena la fede La viviamo Si sporca un po' Con le nostre cose Come vuol dire Appena la viviamo Giustamente Ma scusate Ma le mani Non sono così Non è che noi Ci laviamo le mani E poi abbiamo Le mani Asettiche Per toccare il pane È giusto Non esiste Cioè io mi lavo le mani E ho le mani Sufficientemente pulite Per toccare il pane Ma non è che posso dire Siccome mi sono lavato Due minuti fa Adesso le mie mani Sono proprio Sterili No Non esiste Me le avessi da confezionare Ma appena io apro La confezione Della siringa Già l'aria In qualche maniera Quindi vedete È sempre un concetto relativo Quindi Chi defessate Che se la unì in mano 50 vuoto giorni Su Sono nevrodici Proprio per chi Volissero Vorrebbero realizzare Qualche cosa di irrealizzabile Tu ti puoi lavare Ti puoi pure Togliere la pelle Ma è sempre Un poco sporca Quindi di per sé Vedete Non adattano La teoria Alla pratica Sono talmente teorici Che dice Il concetto di purezza Non esiste Non esiste Noi siamo qua Respiriamo Ma che non esiste L'ispirazione Noi inspiriamo anche Qualche cosa di tossico È inutile È così l'umanità Però in questa sporcizia In questa Così Noi possiamo tendere Sempre a essere Meno sporchi A pulirci A essere Ad aspirare Alla Alla perfezione Aspirare Alla perfezione Migliorare sempre Ecco Dove raggiungeremo L'assoluto Sono in paradiso Fino a quando siamo Su paterra La cosa è molto relativa Ci siamo Non so se Ecco Altri cinque minuti Oggi abbiamo Approfondito altre cose Matteo 10 16-20 Ecco In questo caso Vedete Lo Spirito Santo Dice Gesù Cristo Non vi aiuterà Ad avere una vita Meno pericolosa Anzi Io vi mando Come pecore In mezzo ai lupi Quindi Signore Cioè dobbiamo capirci Non è il Signore Ci garantisce Vi mando Come pecore In mezzo ai lupi Siate dunque Prudenti Come i serpenti E semplici Come le colombe Guardatevi dagli uomini Perché vi consegneranno Ai tribunali Vi flagelleranno Nelle loro sinagoge E sarete condotti Davanti ai governatori E re Per causa mia Per dare testimonianza A loro E ai pagani Quindi il Signore Ci può chiamare A testimoniare In un ospedale Per esempio Non parliamo Per esempio Della cattiveria Parliamo di malattie Ecco Il Signore Permette una malattia E sia nella volontà di Dio Che permette una malattia Vuol dire che Devo testimoniare In ospedale Alle persone Ai malati Ai medici Agli infermieri Dell'amore di Dio Mentre il sogno malato Vi accorgete che La mentalità di Dio Mentre la nostra mentalità È Possiamo dire Di preservare Ecco Chi di voi è mamma Volisse Che i figli O le persone amate Non avessero niente Mentre il Signore dice Vi mando come agnelli In mezzo ai lupi Io il contrario Ecco Ma quando vi consegneranno Vedete Non preoccupatevi Di come O di che cosa Dovete dire Perché vi sarà dato In quell'ora Ciò che dovrete dire Infatti Non siete voi A parlare Ma è lo spirito Del Padre Che parla Ecco Che parla in voi Quindi è come per dire Noi Quando Metti che il Signore Ci chiede di fare una cosa In quel momento Ci darà le grazie Necessarie Per fare bene Quella cosa Se io mi immagino In questo momento E dico Se il Signore Se mi chiedesse Di andare in ospedale Io come mi sentirei Non lo posso capire ora Ma se poi Storicamente Dovesse succedere questo Mi darà Lo Spirito Santo Per gestire Santamente Quel momento E' come se noi Dicessimo Mi voglio immaginare Quando morirò Non tu puoi immaginare Perché per ora Non hai lo spirito Di morire Ma quando sarà Un momento Che tu devi tirare Le cuoia Lo Spirito Santo Scenderà E ti farà morire Santamente Ma ti darà la grazia In quel momento Vedete Quello si chiama Grazia Normalmente Le chiamano Grazia di Stato No con lettera maiuscola Stato Dello Stato In cui ti trovi Cioè Noi Riceviamo Un'azione Dello Spirito Santo Adatta Al momento Che stiamo Vivendo Per amore di Dio Cioè Se il Signore E' come se noi Dicessimo Che provava Sant'Agata Quando le hanno Strappato le mammelle E noi Non potremmo Immaginare Ci terrorizziamo Ma in quel momento Sant'Agata Ha dato testimonianza Secondo Lo Spirito Santo Ha avuto una grazia Adatta A quel momento Se noi Ce l'immaginiamo In effetti Restiamo Storditi Ci siamo? Ecco Quando arriveremo In paradiso A secondo di come Moriremo Ci diranno Che cosa hai provato In quel momento E sapete che cosa Diremo noi In quel momento Dio mi ha aiutato Mi ha aiutato A passare Da questa parte O dall'altra parte Con i sacramenti Per esempio E se in quel momento Non c'è nessuno Che mi dà i sacramenti Se io sono una persona Che si ciba Della guarestia Continuamente Ecco sapete che Dipende dalle situazioni In cui ci troviamo E' come se il Signore Ci dicesse Anche se andassi In una valle oscura Non devi temere Alcun male Perché il mio bastone Il mio vincastro Non ti mancherà Stai tranquillo Non esiste Un momento In cui Il pastore Abbandona le pecore Sono le pecore Che abbandonano Il pastore E il pastore Deve lasciare 99 pecore Per cercare Chi l'ha perduta Ma tu stai tranquillo Io sarò là Prima Che di te Ecco Anche se vi prendessero I re I governatori E vi portessero Ecco Vi ricordate qualche anno fa Quando hanno ucciso Tutti quei cristiani Orientali Nella Medio Oriente Sulla spiaggia Che era tutto Il Diciamo quella Che era il Daesh Non so Erano copiti Copiti significa Che è una tradizione Antica Però sono La dottrina Cattolica Diciamo Morirono Proprio Sgozzati Sì E il Signore Gli ha dato la grazia E vedrete Nel futuro Noi celebreremo La messa Dei martiri Copti Che sicuramente Passerà un po' Di tempo Perché Sapete La Chiesa vuole il tempo Per avere i segni Di Dio Per come Proclamare Santi Perché Non è la Chiesa Che li Proclama Santi La Chiesa Solo Analizza I segni Di Dio Che dà Il Signore Per la Proclamazione Se non ci sono i segni Di Dio Non si può Proclamare Santo Perché Quando ti Proclamano Santi Allora Ti danno E la sicurezza Che quelle persone Sono già in paradiso Perché Dio ha dato dei segni Sono cose Diciamo che nel mondo Purtroppo il mondo Ormai è lontano da Dio Però A noi dispiace molto Questo fatto Perché vorremmo Che tutte le persone Conoscessero la verità E gioissero del Signore Però La nostra tristezza È che solo poche persone Pure rispetto a quelle Che vengono in chiesa Solo una parte Ha sete di Dio A proposito di questo E Che vogliamo fare Siamo in un tempo così D'altronde I primi cristiani Voglio concludere Oggi questo D'altronde I primi cristiani Erano in una situazione Simile alla nostra Erano pochissime persone Sì La lettera ai romani Di San Paolo Apostolo Era indirezzata Alla chiesa di Roma Ma Gli storici dicono Che non erano più Di 30 persone A Roma Cioè Su faccio Quanto si moccava Come per dire Chiesa Era la comunità di Roma Quindi Non è che Ecco Quando la Madonna Mandò il biglietto A Messina Madonna della lettera Ecco Di fatto Diciamo Ammesso che sia Storica poi Perché Non lo so Adesso Non ho mai fatto indagini Ma c'è una lettera Di saluto Della Madonna Ai cristiani Di Messina Ma erano poche decine Di persone Un gruppetto In un mondo pagano Perché la società Era pagana Quindi Erano quel gruppetto Di persone Poi la cristianità Sapete Si sviluppò Dopo L'editto Di Milano Di Costantino Siamo attorno Al 315 Quindi Molto Molto In lava Quindi C'è secolo Passano I primi cristiani Sapete I primi cristiani Erano proprio Poche persone Però Non è che si scoraggiavano Erano quelli Che avevano fatto L'esperienza Di Gesù Però La cosa bella Qual era Che ogni cristiano Si sentiva Santamente Orgoglioso Di aver trovato La perla preziosa Noi non abbiamo Sta gioia Come per dire Io rispetto agli altri Sono stato fortunato Perché io ho trovato La perla preziosa Nascosta nel campo Le auci ancora Vanno cercando La felicità Ma io l'ho trovata Che è Gesù Ecco In questo Noi dobbiamo imparare Ecco Noi siamo Sempre sul Depresso Come per dire Come se fossimo I brutti Anatroccoli Della società Invece I primi cristiani Si sentivano Illuminati In un mondo Poco luminoso Perché il mondo pagano Era peggio di Cristo Vedete Il mondo pagano Era terribile Proprio La violenza Si divertivano A vedere Sbranare le persone Al Colosseo Ora io mo' Colosseo Come se fosse Ma capite Al Colosseo Ci andavano le persone A vedere Sbranare Delle povere persone Così L'animale Li lasciavano Senza mangiare Per giorni E poi li lasciavano Là nell'arena E poi Chi li si sbranavano Davanti a te E chi li applaudivano Oppure i gladiatori Si ammazzavano Proprio moriva Il gladiatore Là davanti a tutti E gli gioivano Figuratevi Che bello sport Ecco Ora per dirvi Il mondo è stato Sempre crudele Solo l'amore di Dio E la civiltà Ecco Noi possiamo dirlo La vera civiltà È solo Quella Che è conforme A Gesù Lo stile di vita Conforme a Gesù Più ci si allontana Da Gesù Anche noi cristiani Certe volte Non viviamo Lo stile di Gesù Ma Più ci si allontana Da Gesù E più siamo Nell'inciviltà Più noi Siamo conformi Gesù Più viviamo Diceva San Paolo VI La civiltà Dell'amore